Grazie a tutti. E poi parleremo di tutte queste cose insieme. Può cominciare anche o più tardi dopo la lezione oppure anche tranquillamente via e-mail. Eccoci qua, il nostro quinto appuntamento. Il nostro quinto appuntamento appunto che entra nel merito molto pratico, molto concreto. Il titolo che vogliamo affrontare dell'enciclica di oggi è appunto alcune linee di orientamento e di azione. E' bene riprendere, come abbiamo fatto sempre, il paragrafo 15 dell'enciclica, nel quale il Santo Padre indica in maniera molto sintetica e molto breve i singoli aspetti. Dopo aver analizzato nel capitolo 1 quello che sta accadendo nella nostra casa e dopo aver fatto, dopo questa panoramica, aver attraversato un po' la tradizione giudeo-cristiana al fine di dare maggiore coerenza al nostro impegno per l'ambiente nel secondo capitolo, l'enciclica entra ad arrivare alle radici della situazione attuale in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde. Questo era il terzo capitolo, la radice umana della crisi ecologica. Così, ci dice il Santo Padre, potremmo proporre un'ecologia che nelle sue diverse dimensioni integri il posto specifico che l'essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda. Questo era il quarto capitolo del mese scorso, appunto, un'ecologia integrale. Alla luce di questa riflessione vorrei fare, dice Papa Francesco, un passo in avanti in alcune ampie linee di dialogo, linee di dialogo e di azione che coinvolgono sia ognuno di noi sia la politica internazionale. Quindi di cosa parleremo oggi? Oggi il Papa, appunto, ci vuole illustrare, indicare alcune ampie linee di dialogo e di azione, quindi unire questi due aspetti, azione e dialogo, dialogo e azione. A partire sia da quello che ciascuno di noi può fare per arrivare fino al livello più alto, quello della politica internazionale, adottando in maniera molto ampia appunto il principio di sussidiarietà. Le crepe dei pianeti e le cause più profondamente umane del degrado ambientale mettono in luce la necessità di un cambio di rotta. E questo cambio di rotta è qualcosa che è un po' un filo, un conduttore della stessa encichica, laudato sì, cercare di trovare, di individuare come favorire questo cambio di rotta per uscire dalla spirale di autodistruzione attraverso percorsi di dialogo. Non solo percorsi di azione, ma anche percorsi di dialogo. È interessante notare come il primo capitolo, il primo paragrafo di questo capitolo, si intitoli proprio il dialogo sull'ambiente nella politica internazionale. Si parte quindi dalla politica internazionale perché? Perché l'ambiente di per sé non conosce frontiere. L'ambiente è un bene trasversale. Per affrontare quelle che lui chiama le crepe del pianeta è necessario favorire una cooperazione internazionale. Vi è ormai la tendenza a concepire il pianeta come una casa comune. Tutti quanti insieme devono collaborare a curare, a custodire questa casa comune. Un mondo interdipendente ci obbliga a pensare, questa interdipendenza, a un solo mondo e quindi a un progetto che sia comune, condiviso. È un progetto questo complesso, dove lo stesso ingegno che è stato utilizzato, e l'abbiamo visto nei precedenti capitoli, per un enorme sviluppo tecnologico che viviamo quotidianamente, questo stesso ingegno non è riuscito a trovare forme efficaci di gestione internazionale, capaci di risolvere efficacemente le gravi difficoltà ambientali e sociali. È indispensabile un consenso mondiale per andare nei singoli concetti, per programmare, per esempio, un'agricoltura sostenibile e diversificata. Un consenso mondiale per sviluppare forme rinnovabili e poco inquinanti di energia. Un consenso mondiale per incentivare una maggiore efficienza energetica, per promuovere una gestione più adeguata delle risorse forestali e marine. Un consenso generale per assicurare a tutti l'accesso all'acqua potabile. Sono esempi molto sintetici, ma che rendono chiaro come sia fondamentale per gestire risorse complesse come l'acqua, le foreste, l'energia. Appunto, un consenso mondiale. Effettivamente, se vediamo la storia, le questioni ambientali sono sempre state più presenti nell'agenda internazionale. A partire dal vertice su Ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, che riconosce gli esseri umani al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. E da quel momento sono stati fatti passi avanti, ma i principi enunciati continuano a richiedere vie efficaci e agili per una realizzazione pratica. Abbiamo visto recentemente si è conclusa a Parigi la conferenza sui cambiamenti climatici con l'adozione di un accordo impegnativo, molto importante sicuramente, ma la cui attuazione dovrà essere misurata e valutata nel corso del tempo. E qui il Papa fa una critica, in un certo senso, piuttosto forte. I negoziati internazionali, abbiamo parlato adesso dell'accordo di Parigi, non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al bene globale comune. Questi due aspetti contrapposti, interessi nazionali e bene comune globale. Quanti subiranno le conseguenze che noi tentiamo di dissimulare ricorderanno questa mancanza di coscienza e mancanza di responsabilità, perché poi alla fin fine gli interessi nazionali possono essere tutelati soltanto se si tutela il bene comune globale, in un'ottica di lungo periodo, ma in un'ottica, appunto, come dicevo prima, di progetto comune. Papa Francesco si sofferma poi sulla difficoltà di avviare uno degli aspetti forse più significativi, una rapida transizione energetica, che porti, appunto, a un consumo sempre più basso di energie a base di carbone. E questo perché ci sono diverse dinamiche tra la società civile e la comunità scientifica, da una parte, e il mondo politico-industriale, dall'altra. Mentre l'umanità del periodo, e qua cito il Papa, l'umanità del periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c'è da augurarsi che l'umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità. E quindi risponda a quella mancanza di coscienza e di responsabilità che è stata prima, appunto, biasimata dal Santo Padre. Pensare, quindi, a lungo termine. Pensare a come l'ambiente influisce sugli obiettivi di sviluppo. È interessante notare come nel 2000 le Nazioni Unite, e quindi tutti i governi del mondo, abbiano adottato gli obiettivi di sviluppo del millennio, e nel 2015 questi obiettivi non si chiamano più obiettivi di sviluppo del millennio, ma obiettivi di sviluppo sostenibile, e quindi integrino l'idea di ambiente e sviluppo come elementi tra loro interconnessi. Urgono accordi internazionali che si realizzino considerata la scarsa capacità delle istanze locali da intervenire in modo efficace. Le relazioni tra stati devono salvaguardare la sovranità di ciascuno, ma anche stabilire percorsi concordati per evitare, e qua usa una parola molto forte il Papa, catastrofi locali, locali, che però finirebbero per danneggiare tutti. Di nuovo l'idea di un solo mondo, di un progetto comune. Il Santo Padre poi mette in guardia anche ad alcuni strumenti internazionali, entra molto nello specifico che per un testo come un'incirca non è così normale, così scontato ritrovare. Entra nello specifico di alcuni strumenti internazionali che potrebbero sì essere efficaci per la lotta del degrado ambientale, ma che non nascondono rischi di strumentalizzazione e di speculazione politica o economica. Cita per esempio l'internazionalizzazione dei costi ambientali, i crediti di emissione, la valutazione di impatto ambientale, tutti strumenti molto importanti, ma che hanno, come tutti gli strumenti, i loro vantaggi e i loro svantaggi. Prima parlavo appunto di questo binomio sviluppo e ambiente. È bene però ricordare, il Papa spesso ce lo ricorda, che per i paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della miseria e la promozione dello sviluppo sociale insieme alla lotta contro la corruzione. Però per sradicare la miseria e per promuovere il sviluppo sociale è essenziale appunto riconoscere il valore che l'ambiente e soprattutto un'ecologia integrale può avere in questo contesto. Il XXI secolo, mentre mantiene una governance propria di epoche passate, assiste a una perdita di potere degli stadi nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria con caratteri transnazionali tende a predominare sulla politica, quindi l'economia transnazionale che predomina sulla politica. In questo contesto diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti, organizzate in maniera più efficace, in maniera imparziale, mediante accordi tra i governi nazionali dotati di poteri di sanzionare, capaci di contrastare gli interessi economici di breve periodo, con la lungimiranza appunto degli interessi di lungo periodo. In questo percorso, in cui c'è sempre minore enfasi su un mondo statocentrico, vede un importante ruolo di una cittadinanza attiva, una cittadinanza attiva a livello sia locale che a livello anche transnazionale, una cittadinanza attiva che è quella capace di promuovere un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura, una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia realmente alle generazioni future, che poi sono coloro che sono già nati, i propri figli, i nipoti. E sempre in questo percorso di indicare linee di orientamento e di azione, si sofferma molto sull'importanza di adottare tecnologie che siano appropriate al contesto locale, sia nel campo dell'agricoltura, che del trasporto, che dell'energia, parla anche di economia di rifiuti e di economia di riciclaggio, che devono essere in qualche modo ben calibrate secondo le risorse pertinenti in ciascun contesto locale. Infatti, dal dialogo sull'ambiente nella politica internazionale, passa al dialogo verso nuove politiche nazionali e locali. per poi arrivare, qui cerco un po' di accelerare, visto che il tempo corre rapidamente, al dialogo e la trasparenza nei processi decisionali. Sulla base del principio di precauzione, che non significa opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica, che consente però di migliorare la qualità della vita di una popolazione. E la politica, qui, grazie anche al principio di precauzione che più volte riprende il Papa, non deve sottomettersi all'economia. E l'economia non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia e della massimizzazione dei profitti, che sono effettivamente delle distorsioni concettuali dell'economia. Pensare soltanto al reddito economico rappresenta una distorsione concettuale dell'economia. E qual è il posto, il ruolo della politica? Abbiamo bisogno, dice il Papa, di una politica che pensi con una visione ampia e che porti avanti un nuovo approccio integrale, di nuovo questa parola integrale, quindi l'idea di ecologia integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Una politica che sia realmente al servizio del bene comune e della vita umana, capace di affrontare quel cambio di rotta, capace di individuare alternative. E ci stanno, il Papa nella sua enciclica enumera tutta una serie di esempi che mettono in luce le alternative sia a livello locale che a livello anche più ampio, comunitario e internazionale. Perché l'ingegno umano di per sé è capace di cambiare il modello di sviluppo globale e questo implica riflettere responsabilmente sul senso dell'economia e sulla sua finalità. Qual è il senso dell'economia? Quali sono le sue finalità? E questo pensare, riflettere responsabilmente è finalizzato a correggere le disfunzioni e le distorsioni, appunto, di quelle distorsioni concettuali dell'economia. E dicendo questo, riprende anche ciò che Benedetto XVI ha detto durante il suo pontificato, per esempio, nella Caritas in Verità. Ultimo aspetto sul quale intende soffermarsi il Papa nel delineare queste azioni, queste linee di orientamento e di azione, è quello di vedere il valore, la valorizzazione del dialogo tra religione e scienza. L'ultimo capitolo è dedicato proprio alle religioni nel dialogo con le scienze. Qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di apportare sarà impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se l'umanità perde la sua rotta. E di nuovo cambiare rotta, ma cambiare rotta in funzione di che cosa? Avere chiare quali sono le grandi motivazioni che possono orientare questa rotta. e questo è un po' la sfida che il Papa lancia appunto alla comunità internazionale da una parte, alla comunità locale dall'altra, ma anche, come dicevo prima, queste linee di orientamento e di azione a partire da ognuno di noi fino alla politica internazionale. Questi sono un po' i cenni sui quali il Santo Padre vuole aiutarci a riflettere in questo quinto capitolo. e credo che in questo ci aiuterà ancora di più Padre Jacopo Filobeno delle docente che molti di voi conoscono immagino di questa facoltà. Vorrei invitarvi per cominciare di forse dopo andare a leggere Evangelii Nunziandi di Paolo VI i numeri 20 30 e 31 perché viene a proposito di questo capitolo. Leggo solo il numero 30 perché veramente ci aiuterà a entrare nella materia. È noto in quali termini ne abbiamo parlato al recente Sinodo del 74 numerosi Vescovi di tutti i continenti soprattutto i Vescovi del Terzo Mondo con un accento pastorale in cui vibrava la voce di milioni di figli della Chiesa che formano quei popoli. Popoli impegnati noi lo sappiamo con tutta la loro energia nello sforzo e nella lotta di superare tutto ciò che li condanna a restare ai margini della vita. Carestie, malattie croniche, analfabetismo, pauperismo, ingiustizie nei rapporti internazionali e specialmente negli scambi commerciali situazioni di neocolonialismo economico e culturale talvolta altrettanto crudele quanto l'antico colonialismo politico. La Chiesa, hanno ripetuto i Vescovi, ha il dovere di annunciare la liberazione di milioni di esseri umani essendo molti di essi figli suoi, vuol dire cattolici, cristiani. Il dovere di aiutare questa liberazione a nascere di testimoniare per esser di fare sì che sia totale. Tutto ciò non è strano all'evangelizzazione. Il secondo punto al quale vorrei chiamare la vostra attenzione è un articolo di Cardinale Bergoglio nel 89, l'ultima volta qualcuno ha accenato a questo articolo. Il titolo dell'articolo è Un'antropologia politica come problema pastorale. È stato tradotto in italiano e non l'ho portato qui, ma è disponibile. Qui troviamo il pensiero più profondo del Papa sulla politica. Per lui la politica è intesa come cosa pubblica, ciò che è comune a tutti e come sistema di rappresentanza di governo che precede l'assunzione di decisioni che coinvolgono tutti, decisioni che proiettano verso il futuro. La politica è come azione strumentale che punta a obiettivi determinati in base a un calcolo mezzo fini. Il Papa veramente cerca le parole per dire quello che vuole. Politica come espressione simbolica della vita in comune, politica come elemento essenziale della persona ed etica della collettività nella sua concezione e nella sua pratica come ricerca organizzata del bene comune, come pratica istituzionalizzata del dialogo sociale. Bene, adesso andiamo al capitolo che è molto politico. si pensa alle volte che questa enciclica è piuttosto un'enciclica sull'ambiente. Con questo capitolo andiamo veramente al cuore della politica internazionale. Cominciamo con le Nazioni Unite. Fondata nel 1945 i suoi obiettivi elencati nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite sono mantenere la pace e la sicurezza internazionale la collettiva sviluppare relazioni amichevole fra le Nazioni sulla base del rispetto dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli promuovere la cooperazione internazionale in materia economica sociale e culturale nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il presupposto dell'impegno per la pace è la convinzione che nessuna efficace tutela della pace nel mondo avrebbe potuto realizzarsi senza un'azione di comune accordo tra le maggiore potenze internazionali per limitare il più possibile nelle situazioni di minacce alla pace l'uso unilaterale della forza armata da parte degli stati. Al Consiglio di sicurezza viene affidato il monopolio dell'uso della forza che avrebbe dovuto garantire interventi rispondenti alla volontà comune delle principali componenti della comunità internazionale. Ma non è solo quello la Nazione Unita è anche per lo sviluppo economico e sociale e questa si è rivelata di notevole incisività soprattutto nel processo di decolonizzazione nel periodo che va dalla metà degli anni 50 alla fine degli anni 60. L'azione diplomatica svolta contribui soprattutto ad accelerare l'acquisizione dell'indipendenza dei nuovi stati. Il momento culminante può individuarsi nella dura condanna del colonialismo pronunciata dall'Assemblea Generale nella dichiarazione del 14 dicembre 1960. La crescita della rappresentanza afro-asiatica conseguente alla decolonizzazione ha determinato un più cospicuo interessamento a favore di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intera comunità internazionale. Fin qui tutto bene. La tutela dei diritti umani è questo che le Nazioni Unite fanno e ci sono diversi strumenti voi li conoscete tutti c'è lì una piccola lista la dichiarazione universale dei diritti umani convenzione contro la discriminazione razziale eccetera e andiamo all'ambiente il vergice della terra di Rio de Janeiro del 1992 segue qualcosa che è stato fatto a Stoccolma nel 1972 ha sancito la cooperazione internazionale per la cura dell'ecosistema di tutta la terra ma gli accordi hanno avuto un basso livello di attuazione perché non si sono stabiliti adeguati meccanismi di controllo di verifica periodica e di sanzione delle inadempienze i principi iniziati continuano a richiedere vie efficaci e agili di realizzazione pratica la convenzione di basileia sul controllo del movimento oltre frontiere di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione nell'89 la convenzione di washington del 75 la convenzione di viena dell'85 e la sua attuazione mediante il protocollo di montreal 987 e poi la conferenza delle nazioni unite sullo sviluppo sostenibile denominata rio più 20 nel 2012 ha emesso un'ampia quanto inefficace dichiarazione finale adesso la seconda parte la geografia del potere del conflitto nord sud l'economia politica mondiale questa è la copertura di un libro che illustra la relazione nord sud subversion as foreign policy politica estera subversione negli altri paesi come politica estera cosa vuol dire vuol dire semplicemente che gli stati uniti in questo caso ma non solo la loro politica estera è di fare tutto per fare più difficile la vita agli altri paesi per raggiungere i suoi interessi questo è stato ampiamente studiato questo libro per esempio è sull'indonesia dove si è provato che gli stati uniti hanno fatto di tutto negli anni 50 per rovinare quel paese e nel 1965 hanno aiutato ai dirigenti di quel paese a uccidere più di un milione di persone nella lotta contro il comunismo il che vuol dire semplicemente che tutti gli altri paesi sono considerati semplicemente come dei satelliti per i suoi fini nel campo dell'economia la politica economica è fatta seguendo gli interessi dei poteri economici dominanti nel capitalismo il potere economico è concentrato scusatemi gli accenti in italiano che non ci sono lì nel capitalismo il potere economico è concentrato nelle mani di una classe di gente ricchissima che ha la proprietà dei grandi blocchi di capitale le decisioni fatte da questa classe di persone per investire o meno in un paese o in una qualsiasi attività impone delle pressioni sui decisori politici sia a Washington sia in qualsiasi altra capitale gli investitori fanno quello che promuove i loro interessi a livello nazionale e globale ci sono dei conflitti fra i diversi gruppi di interessi capitalisti tuttavia loro sono sempre d'accordo sui principali obiettivi strategici che sono coordinati in meetings come quello del World Economic Forum a Davos il gruppo Bilderberg è la cupola della plutocrazia mondiale plutocrazia vuol dire il regime di governo di chi ha molti soldi sono circa 130 persone il nome viene dall'hotel Bilderberg dove si è tenuta la prima riunione a Osterberg nei Paesi Bassi queste sono le persone che controllano il mondo la concentrazione di potere nelle mani di pochi dalle prime cento entità economiche di rilievo mondiale 67 sono multinazionali 33 sono dei governi l'attuale concentrazione di potere include anche il Consiglio di sicurezza e il Bretton Woods che include la Banca Mondiale il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio nel primo gennaio del 95 76 Paesi hanno firmato la charter della World Trade Organization l'ultimo della Bretton Woods il G7 il G8 e il G20 insieme controllano i sistemi economici di tutti gli altri Paesi sono 175 i Paesi più poveri verso la nuova Organizzazione Economica Internazionale che cos'è questa molto presto i Paesi del Terzo Mondo hanno visto che questo è ingiusto e quindi hanno lavorato per arrivare a una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite numero 3201 che è una dichiarazione è disponibile nell'Internet dichiarazione sull'estabilimento di un nuovo ordine economico internazionale e se leggete quel documento si può dire che uno è felice di vedere che questi ideali dei quali parla il Papa quasi tutto è lì la difesa dei diritti delle persone dei diritti dei popoli la giustizia la solidarietà tutto è lì in quel documento è l'ideale dei popoli è il sogno dei popoli è quello che i popoli vogliono i popoli più poveri i paesi più poveri un'altra risoluzione è la risoluzione 3281 anche del 1974 è la Charter of Economic Duties and Rights of States i doveri e i diritti economici degli stati e se si va a leggere quel documento uno capisce subito che se tutti sono trattati ugualmente allora non ci sarebbe la povertà la fame eccetera eccetera perché? perché c'è giustizia per tutti però hanno subito visto che questo non va per gli interessi dell'Occidente Occidente qui voglio dire America del Nord Europa e Giappone hanno fatto questa commissione trilaterale nel 73 con David Rockefeller in testa l'obiettivo è la globalizzazione della dottrina neoliberista che vuole allineare Nord Europa Nord America Europa e Giappone così i più forti si sono messi insieme contro i più fragili sotto l'impulso dell'Assemblea Generale e della UNCTAD si va rafforzando la tendenza a realizzare un'eguaglianza sostanziale fra paesi ricchi e paesi poveri attraverso forme di cooperazione che assicurino lo sviluppo dei paesi economicamente arretrati alcuni principi del nuovo ordine economico internazionale fanno ormai parte della categoria delle norme consuetudinarie per esempio il principio della sovranità permanente dello Stato sulle risorse naturali enunciato dalla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati il principio per cui ogni Stato ha il diritto di scegliere il proprio sistema economico e sociale conformemente alla volontà del suo popolo senza influenze pressioni o minacce esterne di alcun genere il principio secondo il quale è fatto divieto di compriati che pregiudichino irrimediabilmente l'economia di altri Stati però vediamo che i paesi del sud vanno sempre di più in avanti cercando di risolvere la loro situazione perché internazionalmente insieme nelle Nazioni Unite non si arriva a nessun accordo sono permanentemente bloccati dai più forti nel giugno 2014 creazione della Eurasian Economic Union fra la Russia e il Kazakhstan e la Belarus per una popolazione di circa 170 milioni che gestisce un quinto della riserva di gas mondiale e 15% della riserva del petrolio globale allo stesso tempo nasce l'idea che il grande sviluppo economico della Cina che ha trasformato quel paese sin dai tempi della riforma di Deng Xiaoping potrebbe essere replicato in altri paesi in via di sviluppo e così vincere la povertà e il sottosviluppo si dice alle volte che la Cina non prende sul serio la questione della democrazia nei paesi dove loro vanno ad aiutare per i cinesi dicono quella è una questione interna a quel paese noi aiutiamo con quello che loro chiedono da noi perché noi possiamo farlo vi do un esempio da noi hanno costruito il palazzo della presidenza hanno costruito il ministero della difesa hanno costruito il ministero degli esteri dei grossi palazzi gli australiani e gli americani non erano contenti ma i timoresi hanno detto questo è nostro diritto e i cinesi ci vogliono andare quindi noi lo accettiamo cosa fanno i cinesi i cinesi parlano di una nuova via della seta la seta si scrive con una sola te sono le connessioni lungo le vie tradizionali della seta in Asia centrale scusate questo è ancora in inglese è una via attraverso tutta l'Asia centrale l'Asia occidentale il Medio Oriente verso l'Europa connezzare tutte queste regioni questa iniziativa è un'integrazione della regione verso un'integrazione economica con delle infrastrutture scambio culturale e commercio bilaterale e multilaterale fra tutti i paesi di questa grande zona ma i cinesi hanno inventato un'altra cosa si parlava della via della seta sul continente asiatico ma adesso si parla di una via della seta marittima e fra altre iniziative include la costruzione di un secondo canale di Panama a Nicaragua con aiuto cinese fra la Cina e la Russia c'è un accordo strategico di cooperazione economica e cercano anche di fare la connezione ferroviaria fra le capitali africane la Silk Road Economic Belt e la 21st Century Maritime Silk Road anche conosciuta come The Belt and Road o abbreviata B-E-R One Belt One Road o la Belt and Road Initiative è una strategia di sviluppo e un quadro di sviluppo proposto dalla Cina essa focalizza l'attenzione sulla connettività e la cooperazione fra i paesi dell'Eurasia quelli che fanno parte della Land-Based Silk Road Economic Belt e della Maritime Silk Road che va fino in Indonesia giù nel sud la strategia cerca un più grande ruolo negli affari globali per la Cina che ha bisogno del mercato globale per l'esportazione dei suoi beni in overproduction come la steel manufacturing in Africa orientale soprattutto a Zanzibar sarebbe parte della Maritime Silk Road con porti marittime ed infrastrutture moderne di ferrovie fra Nairobi e Mombasa in altre parti la China-Pakistan Economic Corridor e la Bangladesh China-India Myanmar Economic Corridor sono ufficialmente classificate come Closely Related to the Belt and Road Initiative quel progetto del quale abbiamo parlato la CPAC in particolare è considerata il link fra la via della seta terrestre e quella marittima avendo il porto marittimo di Guadar come il centro del progetto del CPAC questo è quello che fanno i cinesi gli altri paesi sottosviluppati in generale cosa fanno? il G77 il 14 e 15 giugno del 2015 scorso a Santa Cruz della Sierra nella Bolivia rappresentanti dei 133 paesi crearono quel gruppo 77 anche la Cina e l'India erano lì in quell'incontro Raul Castro ha detto è necessario richiedere un nuovo le stesse parole del 74 Raul Castro lo ripete in 2015 richiedere un nuovo ordine internazionale finanziario e monetario e eque condizioni commerciali per i produttori e gli importatori vessati dai guardiani del capitale centrati sul fondo monetario internazionale e sulla banca mondiale e dai difensori del neoliberalismo raggruppati nella organizzazione mondiale del commercio che stanno cercando di dividerci i principi del diritto internazionale sono sfacciatamente violati cercano di legalizzare l'ingerenza imposta utilizzano le minacce e la forza con impunità i media sono utilizzati per promuovere la divisione solo l'unità ci permetterà di far prevalere la nostra ampia maggioranza una delle altre degli altri obiettivi di questi paesi più poveri è sciogliere il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e questo è un obiettivo molto ambizioso di questi 133 paesi il leader mondiale insistono che è poco più di una tirannia che cinque nazioni siano al di sopra dell'intero corpo della Nazione Unita con cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza della Nazione Unita che hanno diritto di veto su tutto il resto le politiche e le azioni della Nazione Unita sono dettate da questi cinque paesi Stati Uniti Regno Unito Russia Francia e Cina i membri del G77 vogliono che il consiglio di sicurezza elimini dall'ONU quest'organo per poter tornare ad essere veramente un'organizzazione democratica l'alleanza Russia e Cina hanno firmato un'alleanza commerciale a lungo termine i due paesi hanno deciso di smettere di usare i dollari americani nelle loro transazioni e di utilizzare invece le proprie due valute le due maggiori banche dei due paesi hanno immediatamente annunciato che avrebbero destinato il dollaro statunitense in cima a quello i paesi BRIC e poi BRIC con l'Africa del Sud hanno dichiarato pubblicamente il loro obiettivo di sostituire il danneggiato dollaro americano con qualche altra valuta di default globale ma non si sono fermati lì perché non basta il 24 ottobre del 2014 la Cina stabilì la Asian Infrastructure Investment Bank AIIB 21 paesi asiatici hanno firmato l'accordo per stabilire questa banca quella è la lista dei paesi asiatici soprattutto gli Stati Uniti hanno cercato di allontanare l'Australia e la Corea del Sud da questa iniziativa voi non dovete entrare qui però questi due paesi hanno deciso di farne parte durante il mese di marzo dell'anno scorso anche l'Inghilterra ha abbandonato gli Stati Uniti e ha deciso di far parte dell'AIIB diventando così il partner occidentale più importante la decisione è stata criticata dagli Stati Uniti che si è trovata da sola fuori del gruppo la reazione è questa e vi leggo in inglese our position on the AIIB remains clear and consistent the United States and many major global economies all agree there is a pressing need to enhance infrastructure investment around the world vuole dire semplicemente noi ricchi siamo d'accordo con questo investimento nelle infrastrutture we believe any new multilateral institution should incorporate the high standards of the World Bank and the regional development banks quel senso di superiorità high standards solo nella banca mondiale come se nelle altre banche non ci sarebbero high standards quando è la Cina che sta finanziando gli Stati Uniti based on many discussions we have concerns about whether the AIIB will meet these high standards mette in dubio la capacità dei Cinesi e di tutti gli altri di high standards quelli li sono del terzo mondo non avranno la capacità particularly related to governance and environmental and social safeguards the international community has a stake in seeing the AIIB complement the existing architecture and to work effectively alongside the World Bank and Asian Development Bank in altre parole lavorate con noi con noi sarà meglio cosa fanno i BRICS i BRICS sono tutti paesi in via di sviluppo emergenti o da poco industrializzati ma sono tutti paesi di grandi dimensioni geografiche di economie in crescita accelerata con influenza significativa nel mondo politico sia regionale sia globale anche loro hanno fatto le loro banche New Development Bank per la BRICS è conosciuta prima come BRICS Development Bank il focus è il prestito per progetti di infrastruttura con una capacità di prestare soldi di circa 34 miliardi annualmente l'Africa del Sud è l'anfitrione africano della banca il capitale iniziale è di circa 50 miliardi essendo previsto un aumento fino a 100 miliardi nel frattempo ognuno ha contribuito 10 miliardi poi c'è la BRICS CRA la New Development Bank e la Contingent Reserve Arrangement sono stati firmati come tritti nel BRICS due anni fa nel Brasile questa è una struttura di protezione contro le pressioni di liquidità globali include questioni relazionate con la currency quando la moneta dei membri soffre effetti negativi dalla pressione finanziaria globale nel mese di settembre 2005 il ministro degli esteri dell'Argentina diceva an international conference of heads of state similar to the 1944 Bretton Woods conference to rebuild a more just global monetary and financial architecture which eliminates financial bubbles and concentrates on supporting the real economy e un politico del sud che chiede richiede dei cambi il presidente Kirchner che diceva there is life after the IMF and it's a very good life and remember being in the embrace of the IMF isn't exactly like being in heaven I received an Argentina devastated by an economic program supported by the International Monetary Fund the placing of private interests over the general interest was the expression of a specific model of society which led to generalized poverty uncertainty isolation and impoverishment of life at all levels as it operates today the IMF has no future and the developed world has to understand this Argentina is prepared to work actively and constructively on behalf of a new world economic order e tutti così e cosa dice il Papa il Papa dice un solo mondo un progetto comune dalla metà del secolo scorso superando molte difficoltà si è andata affermando le tendenze a concepire il pianeta come patria e l'umanità come popolo che abita una casa comune vedete che le Nazioni Unite hanno fatto tante cose buone per l'umanità in questi ultimi anni dopo la seconda guerra mondiale e il Papa vuole appoggiare questa linea in un mondo interdependente si dovrebbe fare in modo che le soluzioni siano proposte a partire da una prospettiva globale e non solo in difesa degli interessi di alcuni paesi solo l'interdependenza ci obbliga a pensare a un solo mondo e a un solo progetto comune ma ci sono problemi strutturali come avete visto ci sono delle gravi difficoltà ambientali e sociali come la salvaguardia dell'ambiente la povertà e nel discorso del gennaio 11 ha parlato delle disuguaglianze sociali di quanti fugono dalle miserie estreme per l'impossibilità di sfamare la famiglia o di accedere alle cure mediche e all'istruzione dal degrado senza prospettive di alcun progresso o anche a causa dei cambiamenti climatici o di condizioni climatiche estreme poi la malattia le epidemie poi la questione del governo dell'economia globale risanamento delle economie colpite dalla crisi la questione del disarmo integrale la sicurezza alimentare e la pace la regolamentazione dei flussi migratori abbiamo il problema del paradigma efficientista della tecnocrazia e lui parla dei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo badate alle parole criteri obsoleti che continuano a governare il mondo vedremo un po' di più avanti la logica sugiacente alla cultura attuale è un problema la cultura consumistica la razionalità strumentale del mercato e dello stato la massimizzazione del profito delle imprese e la politica discreditata a causa della corruzione e della mancanza di buone politiche vedete che il papa dice che i politici non riescono a fare delle buone politiche poi la criminalità organizzata tratta della persona narcotraffico e violenza e occultamento delle informazioni migliaia di persone più di 20 milioni che piangono in fuga da guerre orribile persecuzione e violazione dei diritti umani e la instabilità politica o sociale il grido di quanti sono costretti a fuggire in altre parole il papa parla della cultura dello scarto che mette in pericolo la persona umana sacrificando uomini e donne agli idoli del profitto e del consumo situazioni di povertà e di bisogno drammi di tante persone che diventano normalità le persone non sono più considerate un valore primario da rispettare e tutelare specie se povere e disabili se non servono ancora come i nascituri o non servono più come gli anziani siamo diventati insensibili il papa parte di alcune premesse la dignità umana in politica in economia in cultura la persona umana la dignità umana è al centro della preoccupazione un mondo interdependente le funzioni dello stato e il papa va al dettaglio pianificare coordinare vigilare sanzionare all'interno del proprio paese e poi per ognuno di noi lui parla della responsabilità dell'obbligo del controllo democratico all'interno di ogni paese nel mio paese se le cose vanno bene io posso criticare se non lo faccio io sto mancando a una responsabilità a un obbligo del controllo democratico non sono gli stati uniti che verranno nel mio paese a riorganizzare il paese sono stati lì nel 2000 sono tornati nel 2006 perché noi non abbiamo saputo governare il nostro paese ma non lo faranno indefinitamente e questo succede in molti paesi del terzo mondo quindi il papa dice c'è la responsabilità obbligo del controllo democratico all'interno di ogni paese il primato della politica che non deve sottomettersi all'economia e lui qui parla a tutti noi a tutti i governanti del primo secondo terzo mondo tutti e questo non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia la questione è profonda dal ambiente il papa è passato al sociale e qui è passato ai modelli di sviluppo globale al nucleo della questione non basta cambiare qualcosa qui e qualcosa lì è il modello di sviluppo perché si cerca una politica e un'economia al servizio dei più deboli non basta avere qualcosa bisogna avere qualcosa al servizio dei più deboli perché anche loro trovino un posto abbiano da mangiare abbiano un tetto sulla sua testa abbiano un'educazione abbiano salute i diritti basici fondamentali il papa chiede creatività con audacia e responsabilità non sappiamo cosa fare creatività abbiamo dei cervelli per questo con audacia e responsabilità cosa si dovrebbe fare in Colombia cosa si dovrebbe fare in Messico i messicani lo sanno i colombiani lo sanno meglio che nessuno i vietnamiti sanno cosa fare nel Vietnam dopo che gli americani hanno rovinato tutto quel paese oggi il Vietnam è una delle rising star dell'economia del sudeste asiatico i vietnamiti hanno vinto la guerra e hanno ricostruito il loro paese loro sanno cosa fare e poi solidarietà le società tecnologicamente più avanzate siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla sobrietà e a decrescere e questo il papa lo dice non solo perché il Vangelo chiede questo ma anche perché gli strumenti internazionali offrono questa possibilità siamo insieme nella Nazione Unita per questo non per altro per garantire la pace lo sviluppo di tutti cercasi un consenso mondiale in diversi settori per decisioni politiche accordi internazionali accordi sui regimi di governance per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali per quello che è per tutti si dovrebbe lavorare insieme si cercano delle forme efficaci di gestione internazionale in ordine a risolvere le gravi difficoltà ambientali e sociali meccanismi di controllo di verifica periodica e di sanzioni delle inadempiezze quadri regolatori globali che impongano obblighi e che impediscono azioni inaccettabili e questo si può fare le Nazioni Unite hanno detto all'Indonesia di ritirarsi del mio paese hanno dato a loro 48 ore e in 48 ore gli indonesiani hanno lasciato il mio paese sono entrati gli americani e gli australiani in altre parole un'autorità politica mondiale ma questo vuol dire abbiamo bisogno della riforma delle Nazioni Unite adesso vedete quelle che ho commesso in rosso il ventunesimo secolo mentre mantiene una governance propria di epoche passate il Papa sta dicendo che questa governance di oggi non è più di oggi è di epoche passate allora ci fa pensare assiste ad una perdita dei poteri degli stati nazionali soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria con caratteri transnazionali tende a predominare sulla politica sembra che noi siamo dei paesi stati nazioni con sovranità indipendenza eccetera ma quello infatti non arriva fino a risolvere il problema perché le multinazionali poi controllano tutti questi paesi poveri gli esperti parlano della necessità di un secondo trattato di Westfalia quel trattato di Westfalia andate a leggerlo dice che la prima preoccupazione di ogni paese sono gli altri e poi il mio paese quello era il trattato di Westfalia oggi abbiamo bisogno di un secondo trattato di Westfalia che dovrebbe rivedere tutta questa struttura di poteri e quindi il Papa dice diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate di poteri di sanzionare e questo succede il presidente della Tanzania è stato chiamato alla corte internazionale lui è venuto e poi hanno trovato che lui non aveva nessuna colpa può tornare ma lui è venuto ma quello che gli africani chiedono è che non si faccia questo solo agli africani anche agli altri si dovrebbe chiedere la stessa responsabilità allora c'è giustizia se non la corte internazionale non fa giustizia a tale fine bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato ai buoni uffici e all'arbitrato come proposto dalla carta della Nazione Unita cosa che la Santa Sede fa continuamente ha fatto il negoziato ha fatto la mediazione fra gli Stati Uniti e Cuba aveva fatto la mediazione fra gli Stati Uniti e il Giappone prima del bombardamento atomico ma poi un cambiamento ha fatto sì che quel bombardamento doveva essere fatto bene se si rispetta e si applica la carta delle Nazioni Unite con trasparenza e sincerità senza secondi fini come un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e non come un strumento per mascherare intenzioni ambigue si ottengano risultati di pace possiamo andare avanti il compito delle Nazioni Unite può essere visto come lo sviluppo e la promozione della sovranità del diritto sapendo che la giustizia è il requisito indispensabile per realizzare l'ideale della fraternità universale dare a ciascuno il suo secondo la definizione classica di giustizia significa che nessun individuo o gruppo umano si può considerare onnipotente autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre persone singole o dei gruppi sociali quindi la limitazione del potere volevo qui rapidamente richiamare Benedetto XVI perché questo che Francesco dice non lo dice da solo l'ha detto Benedetto XVI l'aveva detto Giovanni Paolo II e anche gli altri prima nella Caritas nel numero 67 lì avete questo principio di responsabilità di proteggere e per attribuire anche alle nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni riforma delle organizzazioni delle Nazioni Unite e dell'architettura economica e finanziaria internazionale collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli una simile autorità dovrà essere regolata dal diritto quindi il richiamo alla necessità di questa autorità in mancanza di ciò nonostante i grandi progressi compiuti nei vari campi rischierebbe di essere condizionato dagli equilibri di poteri tra i più forti lo sviluppo integrale dei popoli e la collaborazione internazionale esigono che venga istituito un grado superiore di ordinamento internazionale di tipo sussidiario per il governo della globalizzazione e che si dia finalmente attuazione ad un ordine sociale conforme all'ordine morale e a quel raccordo tra sfera morale e sociale tra sfera politica e sfera economica e civile che è già prospettato nello statuto delle Nazioni Unite andiamo alla conclusione a Parigi si sono messi d'accordo e hanno firmato un altro trattato internazionale per la cooperazione internazionale che prevede contenimento della temperatura al di sotto dei due gradi se possibile 1,5 ogni cinque anni a partire dal 2020 i paesi dovranno ritrovarsi per rivedere le misure previste ma non c'è una data fissata per la tappa decisiva dell'emissione zero e questo accordo anche non prevede per ora dei meccanismi sanzionatori l'accordo prevede 100 miliardi di dollari all'anno che verrebbero trasferiti dai paesi del nord verso i paesi del sud tra 2020 e 2025 non si sa ancora come ripartire questa somma tra i paesi del sud ma comunque questa somma è troppo ridotta l'Oxfam parla invece della necessità di 800 miliardi l'anno fino al 2050 per finanziare tutta la trasformazione del settore energetico e non c'è garanzia di sostegno a favore delle popolazioni più indigenti delle grandi città e delle zone minacciate dal mare la Dautisi parla di frugalità di sobrietà di semplicità di vita di ridimensionamento di equilibri di spese all'interno dei paesi dove ci sono delle ineguaglianze e fra i paesi ricchi e poveri i più ricchi nei paesi poveri devono rivedere il loro consumo alle volte di livello scandaloso ed i paesi più ricchi devono pagare di più dice il Papa non dico io e devono aiutare nel trasferimento della tecnologia sobrietà nei paesi più avanzati tecnologicamente e parla della decrescita quindi fermarsi un po' rallentare un po' perché gli altri riescono ad arrivare allo stesso livello di questo non ne ha parlato la COP21 cambio di atteggiamento è possibile? adesso vedete questa citazione sappiamo bene che tutti gli abitanti della terra non tutti gli abitanti della terra non potranno vivere alla maniera degli abitanti più ricchi dei paesi sviluppati è un atteggiamento questo è della civiltà cattolica già che e la ragione è già che le risorse della terra attuali non saranno sufficienti per questo quindi è in contrasto diretto con quello che dice il Papa come diceva il professore questo di politica non è solo parole è un richiamo all'impegno personale sociale nelle nostre società grazie grazie tante padre Filomeno dispiace solo aver accelerato la sua presentazione che era molto interessante grazie di tutti questi spunti di riflessione passiamo la parola alla dottoressa Maria Chiara De Angelis che ha il compito anche di provocare un po' sì di provocare la discussione di tutti noi studenti e lo farò in particolar modo concentrandomi su un aspetto che aleggia nell'enciclica insieme a due parole anzi a tre parole che sono la solidarietà e la partecipazione e a una terza parola che probabilmente è centrale nel discorso che abbiamo affrontato finora e che è la parola giustizia nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco dice riferendosi alla chiesa perché le encicliche sono rivolte a tutti gli uomini di buona volontà ma in particolar modo alla chiesa alla sposa quindi la chiesa guidata dal Vangelo della misericordia e dall'amore all'essere umano ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze in questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai discepoli voi stessi date loro da mangiare e ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo Evangelii Gaudium 188 abbiamo visto come c'è una interdipendenza in un mondo globalizzato come il nostro un'interdipendenza alla quale politiche ed economia non riescono spesso a rispondere anzi il Papa stesso afferma che sia la società civile a dare delle risposte a volte più pronte e più efficaci e la ricerca di questo corretto equilibrio tra sovranità degli stati e bene comune in realtà proprio per per far sì che ci sia una governance mondiale che permetta ai beni comuni di essere gestiti adeguatamente sono azioni necessarie e rispondono proprio a questa parola che vi ho sottolineato cioè giustizia che è una virtù prima di tutto quindi ha a che fare con l'ambito morale e soprattutto un ambito morale personale che va poi a diciamo intersecarsi chiaramente nell'ambito sociale e comunitario no? L'appello a praticare la giustizia ricorre tantissime volte nell'enciclica insieme alle altre due parole di cui vi parlavo solidarietà e partecipazione però di quale giustizia stiamo parlando mi sono domandata no? Allora la giustizia non può essere soltanto o non esclusivamente una questione di leggi e tribunali la giustizia ha a che fare come virtù con un'eccellenza della condotta e quindi interpella ciascuno di noi chiaramente nella nostra quotidianità ai livelli e poi ai livelli più alti come il livello politico il livello di gestione dell'economia ma la giustizia che cos'è? è quell'inclinazione costante perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene e riconosce quella necessità di compiere il bene minimo prima di ogni altro bene superiore a volte non si riesce a compiere neanche questo bene minimo che tutto sommato rispetto al discorso sulla gestione dei beni comuni si tratta proprio della gestione dei beni minimi cioè di quello che ha a che fare con una compartecipazione da parte di tutti pensiamo all'energia pensiamo all'acqua pensiamo al nostro ecosistema la giustizia poi nella scrittura è una fedeltà è una fedeltà a una promessa quindi è una fedeltà a essere pienamente noi stessi come persone come esseri umani il Papa in realtà nella sua nella sua enciclica ci vuole dire siate ciò che veramente siete quindi persone giuste capaci di dare a ciascuno ciò che gli è veramente proprio iniziando a essere fedeli alle relazioni quindi cosa vuol dire quel fratello quel padre che devo essere cosa significa praticare la giustizia come studente come lavoratore cosa significa essere giusti nella cura della casa comune quello di cui ci stiamo preoccupando nello specifico diventa una questione di responsabilità e autenticità e diventa una meravigliosa intuizione di se stessi mi piace molto rimandare a una riflessione di Romano Guardini sulla giustizia Guardini riprende l'uso che ne fa Gesù nel discorso della montagna abbiati coloro che hanno fame e sete di giustizia allora la giustizia è associata alla fame e alla sete cioè è associata a due bisogni che sono fondamentali per l'essere umano quindi la giustizia è un'esigenza ma è un'esigenza della quale non si può fare a meno e se questa esigenza non viene non viene diciamo non c'è risposta a questa esigenza si creano quelli che sono i problemi a livello micro e chiaramente a livello macro a livello della cura della nostra casa comune la passione per la giustizia richiama quindi alla serietà del significato della vita e coloro che sono che hanno maggiori responsabilità maggiormente dovranno rispondere di quello che è il loro operato e qui mi viene da pensare a tutte le istituzioni alle persone che ne fanno parte di cui parlava il professor Giacob è un richiamo quindi che incide sulla vita personale di ciascuno e poi qui c'è un un discorso etico che va fatto a mio parere su come anche la giustizia l'etica moderna abbia spostato l'attenzione no? non esiste più un raccordo tra la persona l'azione e il fine esiste una giustizia che un autore abbà chiama la giustizia della una sì una giustizia della terza persona in cui alla fine il legislatore l'osservatore il giudice hanno la meglio rispetto alla diretta responsabilità che ciascuno di noi ha nel praticare le virtù in questo caso la virtù della dell'essere giusti no? la riflessione quindi sulla questo che cosa che cosa comporta che si sta eliminando lentamente la riflessione sul senso della libertà del soggetto agente e sull'uso buono di questa libertà per creare un assetto sociale fondato su opzioni radicali della libera volontà quindi su quello che viene identificato da Benedetto XVI come relativismo e in ambito poi strettamente politico ed economico come una logica di tipo tecnocratica un altro aspetto che mi preme sottolineare e che è presente anche nella Laudato Si è l'attenzione che Papa Francesco dà alla dimensione processuale alla dimensione dei processi quindi una attenzione ai tempi piuttosto che agli spazi ai tempi dei processi che sono chiaramente lunghi e non così immediati e tangibili deve avere comunque la priorità su una dimensione invece che è quella dello spazio o del mantenimento di posizioni di potere e di status quo questo è un modo per praticare la giustizia l'attenzione ai processi piuttosto che agli spazi che agli spazi di potere la politica e l'economia allora sono direttamente coinvolti nel ripristinare quest'ordine dando conto delle differenze alimentando dei processi che possono a lungo termine portare vantaggi e frutti per tutti cito adesso per terminare perché il mio è un intervento che vuole essere proprio vuole darvi degli spunti un autore Langer che nel 1994 denuncia con forza il fallimento della conferenza di Rio del 92 e ne denuncia la chimera di una politica ecologica dai risultati immediati che secondo appunto Langer questo filosofo è senza alcun fondamento richiama il bisogno di mutare prospettiva verso invece un lavoro di persuasione lui lo definisce da compiere che deve essere enorme e paziente come è possibile si interroga Langer sulla che possibilità c'è che effettivamente si possa sia possibile realizzare una conversione ecologica socialmente desiderabile credo che sia un'intuizione molto utile quella di spostare l'attenzione non solo sulla politica e sull'economia ma lavorare anche sul piano della società e della cultura perché l'orizzonte tecnocratico che tanto denunciato deve portare ad un cambio di rotta ad un cambio di rotta dal punto di vista proprio culturale allora Langer sostiene che deve prendere a livello sociale e culturale un radicarsi di una concezione differente di una concezione diversa da quella che la nostra civiltà ha attualmente sposato che lui definisce corrispondente al motto olimpico cizius alzius fortius più veloce più alto più forte per abbracciare una prospettiva alternativa dove al progresso e alla crescita si dia priorità a quella che molti oggi definiscono come diceva anche il professor Jacopo decrescita felice cioè il progresso non solo visto come un aumento di capitale un aumento del PIL come un aumento di produzione ma anche come la capacità di fermarsi per poter fondare la società su una visione dove si vada più lentamente ma anche più in profondità questo per concludere richiama un'esortazione che anche già Benedetto XVI aveva fatto nella Caritas Inveritate che è rimettere al centro lo sviluppo umano integrale un'ecologia dell'uomo indispensabile per l'affermazione di un'ecologia ambientale perché tutto sommato nella Laudato Si si parla dell'uomo non si parla dell'ambiente si parla dell'uomo come centro al quale è data un'amministrazione della creazione delle sue creature affinché possa portare frutto per tutti la cura della casa comune quindi è possibile solo a partire dalle responsabilità nei confronti della persona in se stessa e in relazione con gli altri quello di qui sopra cioè il principio di giustizia non si possono quindi esigere gli uni e conculcare gli altri questa è una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna che avvilisce la persona sconvolge l'ambiente e danneggia la società questo per dire che un'attenzione all'ecologia è in realtà un'attenzione a uno sviluppo integrale che riguarda l'uomo non soltanto in come vive l'ambiente ma anche in come vive se stesso e le proprie relazioni quindi da punto di vista prettamente morale grazie